Un tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 all'ingresso dell'asse attrezzato in località Brecciarola di Chieti dove è morta una ragazza di 25 anni di Moscufo. La giovane di Moscufo in provincia di Pescara si chiama Fabiana Poli ed era alla guida della sua auto una Opel Corsa quando per causa in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta finendo in un impatto frontale contro il tir condotto da un 46enne di Frosinone rimasto fortunatamente illeso. La ragazza che faceva la barista si stava recando al lavoro e viaggiava in direzione Chieti. Sono stati vani i soccorsi del 118 perché la 24enne è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti oltre ai vigili del fuoco. Il PM della procura teatina Lucia Campo ha disposto un esame esterno della salma che è stato condotto all'obitario dell'ospedale Santissima Annunziata di Colle dell'Araba.